Ciao a tutti, oggi è Vigilia di Natale, settimana di Natale, ma non per questo non ci alleneremo e quindi cominciamo subito con il World di oggi. Uno squat snatch, due box jump, tre push press, quattro toss to bar, cinque hand power clean, sei hand release push up, set deadlift, otto giacca di sit up, nove kettlebell swing, dieci lunges, dieci per lato naturalmente, undici wall ball e dodici once di birra. Tanti auguri!